ciao amici qui per voi un imperioso man 41 480 man tgx 41 480 quattro assi doppia trazione cambio manuale retarder poco più di 200.000 chilometri l'autocarro si presenti in condizioni originali cassone fisso allungabile e iab 700 7 sfili più 4 tutta radiocomandata la richiesta è 110 mila euro più iva questa è un'offerta over the track solo il top